All'Inter è stato fatto ripetere il rigore sbagliato da Ceranoglu verso la fine del primo tempo durante Juve-Inter, un errore che avrebbe mantenuto il risultato sullo 0-0. Inizialmente era stato fischiato fallo in attacco dopo l'errore, ma poi è stato fatto ripetere perché De Ligt sarebbe partito dentro l'area di rigore al momento del tiro di Ceranoglu. Così Ceranoglu al secondo tentativo non ha sbagliato e portato sull'1-0 l'Inter. Secondo me è davvero una scelta discutibile perché è vero che De Ligt parte dentro l'area di rigore al momento della battuta di Ceranoglu, quindi per il regolamento è giusto far ripetere il calcio di rigore, però ragazzi diciamo la verità, quante sede vedono di episodi del genere oppure non vengono mai fatti ripetere? Quindi poi a questo punto è normale che un tifoso possa pensare che una squadra venga favorita.